Alcune cose ci sono da limare, però... Io ne sono in un video di un'altra parte, da un'altra parte, da un'altra parte, da un'altra parte... ...e i giocatori rapidi del Catania, mentre si ha ok a che è ultra un gol, ha fatto un grosso lavoro... ...comme si è giocato da molti giocatori, mi sapevo... ...che chiamé un contact con la protesta, carri e la padra, cerce la parte del gormac... ...znamo che tutti i sei. Diciamo che stiamo avendo una continuità. Toti è inizierva. 10 minuti predi inizio della macchina aveva 2 giorni in prima. Iscriviti da spostare da giocare un po' inizio, ma riusciti da guardare un po' inizio, ma riusciti da guardare un po' inizio. Inizio la macchina inizio questa nozione, ma prima, in questo momento, in questo momento, in questo momento, in questo momento, per noi è inizio da facciamo un po' inizio per i risultati. Un'ultima domanda. C'è qualcosa che gli è piaciuto che l'ha impressionato nel gioco della CSK? Che cos'è? La cosa che mi è piaciuto. Adesso mi trovarci a terza di grada di molto bene a padateli. Il senso come c'è un soffio per il tuo fenomeno che ci sono stati anche stranati sono lasciato un po' per uno. ...da soffrire perché sospinti dal loro caloroso pubblico dovremo lavorare tantissimo. ...